Non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce dentro me. Oh, pudiamola, fino a che ce ne sarà, che fatica che ti chiedo, oggi ne ho visto per me. È importante ribadire che questa azienda ha licenziato l'operario quando ha preso dallo Stato un sacco di soldi pubblici. E questa è una cosa gravissima, cioè oltre alla gravità dei licenziamenti, questi fanno cassa con soldi della collettività. E questa è una pipista, siamo qui in piazza perché questa è una prova di forza. Se verranno restituite al mittente le intenzioni di mettere sulla strada un sacco di persone senza futuro e senza certezze, ma invece metteremo sull'astrico i padroni, che sono quelli che profittano da ogni situazione di gravità sociale, come la pandemia, come tutto è, noi abbiamo vinto questa sfida perché questa è una pipista. Se passano qui lo sblocco di licenziamenti, come nel Domino, lo applicano dappertutto.